Noi stiamo entrando all'interno Professione, agli rotori, zappaterra proprio Lui sarebbe un contadino, io la moglie l'è contadino Domenico, da quanto tempo fai questo lavoro? Appena nato Perché? Perché i miei genitori facevano questo lavoro e io continuo a fare questo lavoro Lo faceva già dalla pancia Oh, 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 oh Sweet love of mine He's got eyes of the bluest sky Ciao 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 Ciao